Musica Non si placa l'ondata di furti nel centro storico aquilano. Dopo l'ultimo, solo qualche notte fa, ai danni della tabaccheria della villa comunale, a fianco dello storico Chioschetto, la notte scorsa è ennesimo tentativo di furto in pieno centro storico, questa volta sventato. Il fatto è accaduto in piazza Chiarino, luogo di ritrovo della movida aquilana, nel locale Pantasima. Gli agenti della squadra volante della questura dell'Aquila, diretta dal dottor Nicola Di Pasquale, sono giunti sul posto immediatamente dopo una segnalazione e hanno trovato lì un uomo che stava tentando di rompere la porta del locale con una mazza. L'uomo è stato arrestato dagli agenti della volante aquilana, è stato esploso anche un colpo di pistola a scopo intimidatorio in aria per cercare di bloccare il malvivente che non desisteva dal suo intento. L'ennesimo tentativo, dicevamo, in un centro storico che sembra sempre più abbandonato alla sua sorte, sempre più preda di furti notturni, negli ultimi tempi sono stati tantissimi, con i commercianti, i pochi in realtà che hanno avuto il coraggio di riaprire le loro attività, che chiedono controlli più frequenti e anche telecamere. Queste, come hanno assicurato dal comune dell'Aquila, arriveranno a breve. La ricostruzione della vecchia caserma del comando provinciale dei vigili del fuoco dell'Aquila avverrà ad opera di una ditta, che ha proposto oltre il 50% in meno rispetto alla base d'asta, un metodo, quello del massimo ribasso, contro il quale si schiera fermamente Ancel Aquila in una nota in cui si sottolineano le perplessità legate a questo bando di gara pubblica. La commissione di gara scrivono, dopo aver escluso la prima in graduatoria, per chi ha giudicato anomali il ribasso proposto del 65,3%, ha deciso di assegnare lavori di un importo complessivo, lo ricordiamo, di 5,4 milioni di euro, alla seconda classificata, che ha proposto invece un ribasso d'asta del 57,5%, ritenendolo congruo. Ancora una volta, commenta il presidente dei costruttori aquilani Gianni Frattale, un'importante gara pubblica viene istruita secondo il criterio discutibile e ormai impopolare nella cultura delle costruzioni del massimo ribasso. Viene spontaneo chiedersi quale congruità possa ravvisarsi in un ribasso che supera abbondantemente della metà gli importi previsti dal preziario regionale, già di per sé non pienamente adeguato ai costi correnti e per questo in via di aggiornamento. Ci auguriamo, ha detto Frattale, che tutto questo non porti conseguenze per i lavoratori, fornitori, la qualità del lavoro e dei materiali, la sicurezza dei cantieri e anche per la pubblica amministrazione. Ci aspettavamo che dopo tanti ritardi e difformità nell'iter di appalto della caserma dei Vigili del Fuoco, che continuano da anni a lavorare in struttura in idonee, si arrivasse ad un'assegnazione dei lavori esemplare che non desse adite ad ulteriori dubbi. Nulla contro l'impresa vincitrice, ribadisce Frattale, probabilmente vittima anch'essa di questo sistema, costretta a scarnificare il proprio legittimo guadagno per assicurarsi il lavoro. Ci auguriamo solo, dice, che le restrizioni imposte dalla dittatura del ribasso dei costi non siano poi recuperate mediante varianti nel corso dell'esecuzione dei lavori. Siamo certi che questo non sarà consentito dai funzionali del provveditorato alle opere pubbliche. Ancel Aquila, chiosa Frattale, monitorà con particolare attenzione questa importante opera, auspicando un immediato avvio dei lavori, a differenza di quanto sta accadendo per la scuola di Amicis dell'Aquila, dove, a lavori assegnati da circa tre anni, non si riesce a vedere l'inizio del cantiere. Non si sa se per varianti ai lavori o per modifiche al piano regolatore. Un pubblico numeroso, incuriosito e dalla fine voglioso di saperne di più, ha assistito alla conferenza sul tema Sacra Sindone, indagine moderna sull'antico mistero che si è svolta all'auditorium del parco. Ad organizzare l'evento l'opera di San Giorgio Ollus, che si occupa di raccolta fondi per l'assistenza alle persone affette da autismo. Sul palco è la professoressa Emanuela Marinelli, una delle massime esperte di Sindone a livello mondiale e scrittrice di fama internazionale. Il fascino che suscita, al di là delle mie parole, è la Sindone stessa che attrae con il suo mistero e con il segreto che racchiude. Un uomo è stato per poche ore in questo lenzuolo, non ci è rimasto, ci ha impresso un'immagine come se avesse messo luce. Tutto concorda con l'identificazione con Gesù, col Gesù dei Vangeli. E dunque la Sindone ci dà una grande speranza. Sono 17 fino ad ora i volumi che la sindonologa ha scritto sul Sacro Sudario, ma il ricavato delle vendite è stato destinato al finanziamento di una missione in Africa. Tutto quello che viene ricavato dal libro viene devoluto per una scuola dedicata alla Sindone, al volto santo della Sindone, che si trova a Bukoba, in Tanzania, in una zona molto povera, vicino a Rwanda, vicino al Burundi, dove un sacerdote coraggioso ha costruito, per 400 ragazzi questo istituto dove ancora manca tutto. E allora io cerco in qualche modo di mandare un aiuto. Abbiamo costruito una casa per degli insegnanti che possono così stare lì vicino alla scuola e attraverso Observe Onlus, che è una onlus di progetti sociali, stiamo facendo questa raccolta di fondi. Vorremmo quest'anno mandare anche dei fondi per fare dei pannelli solari. Contro l'Ostiamare guadagna un punto l'Aquila, tornata in casa dopo due sterne. Una squadra ancora in rodaggio è acerba quella rosso-blu, che ha incontrato una capolista ostiamare esperta della categoria equadrata. Sono passati solo due minuti dal calcio d'inizio, quando Vano si infila tra i difensori attoniti, ritardo dell'estremo e la rete si gonfia. L'Aquila subisce il colpo, facce bui e sbuffi in campo. Al settimo il primo però a ritrovare lo spirito è Minincleri, che tira alto. Lo segue Ganci, che servito dalla fascia, piazza un colpo di testa che l'estremo intuisce e para. Gli animi si accendono e al quattordicesimo arriva l'espulsione di Vano, il quale lontano dalla palla colpisce Capitan la vista. La partita prende un'altra piega, l'Aquila in vantaggio numerico comincia a spingere, anche se spesso confusamente, come Dictivicious che scarta uomo e guadagna mezzo campo per servire Ganci, il quale non intercetta la sfera che scivola fuori. Ed è al trentaseiesimo che il rosso-blu concretizzano gli sforzi in avanti. Valenti, entrato da poco, scarta due avversari e calciano abbordata dai 25, che supera l'estremo dell'ostia mare impotente e si insacca preciso nell'angolino basso. Allo scadere del primo tempo russo in area, calcio in diagonale, parata di 4-8, ribattuta da Zane al volo, finisce altissima sugli spalti. Secondo tempo caratterizzato dalla difesa a denti stretti dell'ostia mare, che soffre per l'inferiorità numerica. Con una serie di cambi, l'Aquila cerca di sbloccare il risultato e spinge il suo 4-3-3. Al quarto, Valenti dal limite dell'area, serve Ganci, il quale non intercetta e la palla è fuori. Tanti tentativi. E poi, all'ottavo, sempre Minincleri, trova Dictevicius, che si infiltra nella difesa avversaria, ma calcia alto sulla traversa. Solo al dodicesimo, gli ospiti entrano nell'area aquilana con una punizione, che Attili manda due metri dai pali. Al diciannovesimo, rigore reclamato dall'Aquila per un episodio molto dubbio, ma il direttore di gara prosegue. Al trentesimo, il gol partita mangiato. È sembrato un'indecisione. Minincleri, liberato da buon vissuto, arrivato sotto la linea di porta, calcio debole, traversa di piatto, la palla rimbalza fuori dalla linea, con il difensore Celere a liberare l'area. Il pari sta bene a mister Massimo Morgia, che invita a non farsi sopraffare dalla frenesia del risultato. Ha fatto il possibile, l'impossibile. Non l'abbiamo buttata dentro, le partite sono determinate dai gol. Però, credo che la dimostrazione di aver giocato, di aver fatto la partita sempre, secondo me, nonostante le tante facce che vedo scure, qui c'è troppa apprezzione, troppa fretta, che non aiuta per niente. Chiaramente l'espulsione ha condizionato la nostra partita, che insomma si era messa bene. Sappiamo che dovevamo qui, dovevamo arrivare a soffrire, perché incontriamo una delle squadre più forti del girone. Chiaramente 75 minuti in 10, devo dire, sono stati veramente grandi i ragazzi. Grazie a tutti.